Salva un sogno, lasciami dormire Questa è la frase che c'è scritta sul diario della Comics 2013 Mi piace davvero tantissimo E purtroppo non potremo più dormire Sapete perché? Perché la scuola è ormai ricominciata E quindi dovremo ritornare e ricominciare con la solita vita, le solite storie Sempre la stessa cosa Far di fretta la mattina, truccarsi, vestirsi, lavarsi, tutto in meno di mezz'ora Per poter arrivare a scuola in orario e non in ritardo come faccio io Quindi vi faccio un trucco veramente semplice E alla fine del video troverete una sorpresa Perché questo video in collaborazione con Angela Vi metto il link del suo canale in sovraimpressione Non il link, scusate Sì, vi invio la nota al link E metto che si aprirà un'altra pagina Quindi potete tranquillamente cliccare Abbiamo fatto questo video in collaborazione Io sono come al solito sempre la ritardataria E mi deve scusare Ma purtroppo sono stata impegnata Poi mi dispiace anche perché Questo video l'avevo fatto prima di comprare la videocamera E non ho avuto tempo di poterlo registrare Anche perché ho avuto problemi con la videocamera Chi c'è su Facebook già lo sa Quindi cominciamo con realizzare questo trucco E vi spiego un pochino Allora, applico questo correttore di Essence Che è un correttore molto chiaro Quindi lo uso come illuminante E lo applico appunto nelle zone in cui avete visto Io utilizzo questo correttore di Avon Leggermente aranciato per andare a coprire le mie occhiaie Molto molto marcate Le vedrete meglio dalla videocamera Poi vado a prendere una crema idratante E la mescolo con un fondotinta Di modo che vado a creare la mia BB Cream Velocissima fatta in casa In due minuti E viene proprio una crema colorata Molto pigmentata e colorata Poiché c'è fondotinta La mia pelle quindi sarà idratata E anche colorata E lo vado a stendere con il powder brush di Elf Vado a fissare il tutto come una cipria Utilizzo la cipria di Essence La Fix & Matte E la vado ad applicare su tutto il viso Prima sulla zona T E poi sul libro sul viso Adesso prendo dalla Naked questo colore Che è un rosa molto chiaro Quindi glitterini Il colore toasted E lo vado ad applicare Dopo aver applicato un primer sull'occhio Su tutta la pappivra mobile Proprio tutta la pappivra mobile E lo vado a ricoprire a mio occhio E lo stendo con questo pennellino Di Urban Decay Dopodiché prendo un pennello da sfumatura Zoom un pochino E vado a prendere Naked Che è un colore molto chiaro Sempre dalla Naked È veramente chiaro È un colore carne proprio Veramente chiarissimo E lo applico sotto l'arcata Per andare ad illuminare la mia zona Quindi non che ne distacco Applico una matita Questa qui è di Chanel Che non è per niente scrivente Comunque all'interno dell'occhio Sia sotto che sopra E poi vado a fare una specie di riga di eyeliner Però con la matita Anche se io ve lo dico Vi dico la verità Io metto le liner Perché a me piace molto l'effetto di eyeliner E poi perché dopo 6 ore Parliamoci chiaro La matita si va ad attaccare sotto la pappebra Quindi si crea quella macchia molto brutta antiestetica Però non tutti voi usate le liner Quindi potete tranquillamente mettere O l'eyeliner o la matita Io metto l'eyeliner Vado ad applicare il mascara Quindi il multi action Poi applico una terra Sotto la guancia Quindi sotto la guancia Sull'osso dello zigomo Non so che è Sulle tempie E vi faccio proprio il contorno del viso Subito andrà ad accentuare la vostra bronzatura La metto solo per accentuare la bronzatura E poi applico un pochino 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 di blush E poi applico questo rossetto molto chiaro Molto nude di Kiko Ed ecco qui Il trucco è terminato Molto semplice Molto naturale Molto nude E ad altro per la scuola Adesso Adesso Ecco qui Ho applicato le liner di nascosto Ok Allora adesso Io dovevo realizzare due trucchi Ma ne ho realizzato uno soltanto Perché sono uscita fuori inquadratura E non ho avuto più tempo Quindi ho fatto la mia solita figuraccia con Angela Ma se mi dispiace Mi rifarò nella prossima collaborazione Però lei ha fatto delle pettinature L'acconciatura per capelli è la cosa fondamentale Perché io vado a scuola sempre con i capelli disordinati Perché la mattina non ho tempo per potermeli aggiustare E quindi ecco che arriva Angela E ci aiuta con la sua super pettinatura Ne ha fatte varie Adesso io non so se ci riuscirò a mettere il link cliccabile Però comunque vi metto qualche link qui in sovraimpressione Voi ci cliccate su E vi reindirizzerò direttamente Al video di Angela E quindi niente Io spero che il video vi sia piaciuto E vi mando un grande bacio 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 E vi mando un po'